Ciao a tutti amici della Balla Game Center e benvenuti in questo nuovo video di Dark Souls 3 Purtroppo ho avuto dei grossi problemi con il microfono, infatti mi ero dimenticato di collegarlo alla vermedia E quindi i primi 20 minuti di gioco che ho fatto io li ho riassunti in un minuto per voi in questo video Dove parlerò rapidamente mentre vedete quello che ho fatto appunto in 20 minuti Qui praticamente appena ucciso il boss sono uscito Di fronte vi troverete due ricertoli della titanita e fattele fuori per due titaniti scintillanti In alto a sinistra lì c'è un oggetto che andrete a prendervelo dopo Qui ci sono dei giganti, attenti che quando vi prendete l'oggetto lì in mezzo e un paio sono vivi e vi fanno il trappolozzo Però io al posto di andare lì sono andato subito lì sotto Girando un po' lì sotto troverete dei nemici trasparenti Oltre a quelli uccisi i nemici trasparenti troverete un anello Se non sbaglio si tratta dell'anello dell'oscurità E quell'anello lì vi è utile contro il boss che ci sarà nell'episodio prossimo Quindi io so già di che boss si tratta però appunto lo vedrete nell'episodio È un anello che protegge dall'oscurità Se entrate in quella porta lì avrete un collegamento diretto con la cattedrale Dove c'è il falò del boss Sullivan, il pontefice esatto E poi girando un po' lì incontrerete qualche altro oggetto Qualche lucertola e un Mimic State molto attenti al Mimic Veramente state super attenti al Mimic Ok? Poi quando uscite potete uccidere Anzi dovete uccidere tutti questi signori che sparano Il fuoco E vi incontrerete due NPC vivi Quindi quei signori lì vestiti da Jon Snow del trono di spade Fateli fuori Il primo non vi darà niente Il secondo vi darà le lance di Drang Ora passo a parlare normale Quindi con la registrazione giusta Ok qua sopra c'erano i due tizi che ho fatto fuori Quelli che sembravano usciti da Quella roba la famosa di cui mi sfugge il nome Ah sì Il trono di spade Eccolo lì Jon Snow E compagni Allora vediamo un po' in giro Qua non c'è nulla No c'è una strada qui Che però non porta a nulla Molto bene Allora vediamo un po' Provo ad andare subito dentro di qua E vediamo cosa succede Ok qui non c'è niente al momento Molto bene La cosa mi rincuora sufficientemente Qua niente A parte che la strada qui Qui non c'è Oh oh Ok Con non c'è niente Che bellissimo Cosa abbiamo qua Scaglia di titanite Ottima questa Allora vediamo un po' Cosa c'è qui No niente Ah Ho parato al pelo Oh posso fare due strade Beh io direi che vado su per di qua Così facendo quella più laterale Ah un oggetto Frammento grande di titanite Che culo Ma dai E' proprio come su Dark Souls 1 A meno che qua c'è più spazio per combattere però Allora Vediamo un po' Io devo far fuori te Aia Aia Però vieni di qui Così Ah L'uamari stronzi da merda Prima cosa Riprendere le anime Opa Allora Sapete cosa faccio Faccio il figlio di A parte che ho 12 frecce E a parte che sto sparando un muro Se mi metto di qua Ok 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 Lui Quello in alto a sinistra Colpisce il cordolo Perché è troppo lontano Quello lì in teoria posso fare fuori Sì Che culo colpisce il cordolo anche lui Dai che lo faccio cadere Dai che lo faccio cadere Abbassiamo un paio di gradi Adesso No Lo sono fatto incazzare di più Oh grande Grande Perfetto No Adesso siamo arrivati Che non riesco più a colpirlo Oh Tu hai meriti Ok Ho potuto colpire anche lui Ma lui mi sembra su una piattaforma un po' più affrontabile Quindi direi che ci vado a mano Supercorsa Ok Recupera anime Via Ma no Ok Vediamo se riesco A farla un po' più tecnica Stavolta Senza star lì A spararlo giù Con le frecce Prima cosa Mi vado a riprendere Le mie Cazzo di anime Aia Però Cioè Mi ha Mi ha Trafitto il punk Crash praticamente Forse posso saltare lì sotto Andiamo Weee Ehm No Ah Dai 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 Posso sopravvivere Si Grande Sembro l'Evangelion di Asuka Nel secondo film Quando le piantano dentro Tipo 13.000 lance O roba del genere Ok Ceneri Abiti Bla 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 Abitante Terraforma E una roba del genere Ok Allora Calma Adesso Posso far fuori Te Però Te Ti avvicini Ok No Ok Muori Bastardo Toh Freccia pesante Da massadraghi E frammento Di titanite Che cazzo Mi date ancora I frammenti Che Aspetta no 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 È pericoloso Quello lì Non mi fa un ca Chi sta tirando cosa Da dove Ok Quello lì Non mi può colpire Ho finito Ho finito le frecce Però posso tirare le frecce Della massadraghi Con Il mio Ah beh ma ho 38 di queste Beh aspetta Vediamo Non posso usare le frecce Della massadraghi Con L'arco Con L'arco Piccolo Quindi Useremo Questo E tu Adesso Vai giù Eh no Decisamente Rischio un po' Troppo Uh Uh Dai 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 Uh Aspetta Ma posso colpirlo Da qua Con la Dokken Ok Oh Adesso Dai 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 Uh Ascolta Perché sto facendo Così Che mi sono Anche detto Che posso Far a meno Di ucciderlo Questo Cazzo Cazzo Uh Culo Allora Calma Posso farcela Posso farcela Adesso Uno Due E tua No Ok Perfetto Perfetto Ho rischiato Un infarto Multiplo Però Perfetto Ok Adesso Facciamo fuori Te Brutto Figlio Di trota Dai dai Au Gente l'ho fatto fuori Fidatevi Scusate Si inchioda Ogni tanto Mi si inchioda La vermedia Non so perché Penso perché Non sia ancora Ottimizzato Il driver Per windows 10 E quindi Fa un po' Fatica Uh Sono Vabbè Dai vieni qua No Ma dai Non era proprio Quello che volevo Però va bene Lo stesso Metà vita La persa Ecco Questo era Quello che volevo Ok Grazie Frammento Di titanite Allora Uh Là ce n'è Un altro Due Sono E qua Abbiamo qualcosa Di utile Magari Un falò Non so C'è No È evidente Che qua dentro Forse c'è qualcosa Probabilmente È esplorabile Quel pezzo Lì Adesso Cosa faccio Con quei due Lì Perché sono In due Proviamo Ok Ne ho fatto Incazzare Uno Sì Però Vieni qui Bravissimo Dai Perfetto Tac Frammento Frammento Di titanite Seconda Cosa Beh no Ma lì ho Spazio Per combattere Posso Raggiungerlo Quello lì Basta Che non Ne sbuca Fuori Uno Da un momento All'altro Però la lancia Quella lancia Lì Sarebbe bellissimo Averla Anche se non La uso Quanti da Cavaliere Frammento Di titanite Quella lancia Lì è un'ottima Arma Ah qua Abbiamo una Strada Ok Qua posso Sbloccare La strada E la Scorciatoia Sblocchiamo La scorciatoia Sì 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 Assolutamente Speriamo Che non Mi sparino Troppo Lì dal Piano Terra Qua Sono sicuro Che è la Scorciatoia E Sì 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 Dai Perfetto Fantastico Andiamo Subito Avanti Che magari C'è un Falò La vicino Dai Tanto finché Sono quei nemici Lì Se sto Abbastanza Attento Posso Riuscire A non Morire Perché andare Il falò Adesso Me li farebbe Tornare In vita Ah Che cosa Abbiamo Qua Aspetta Andiamo Uh Grande Arco Potente Da ammazzadraghi E freccia Pesante Da ammazzadraghi Ok 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 Che cosa Abbiamo Qui Invece Ah niente Era solo La scorciatoia Per andare A prendersi L'arco Che Sarai Tentato Da Sarai Tentato Di usare Il problema È che Essendo che L'arco Peserà Una vita E mezza Cioè Peserà Un sacco Quindi Non posso Andare in giro Con un arco Così Pesante Equipaggiato Cioè Già sono Al limite Del fat roll Probabilmente Quindi Meglio Di novala Allora No Questa Andiamo Sì Questa strada Qua È percorribile Sì Sì Perfetto Ok Ah Non mi ero Preso I tuoi Residui Perfetto Allora E poi Si va giù Da di qua E si va Di qua Beh dai Insomma Era più Fattibile Di quella Che c'è Su Dark Souls 1 Ah Forse anche Quella lì Mi sa Di Raggiungibile In qualche Maniera Vediamo Forse Buttandosi Da qua Beh Lo faremo Provare A qualche Gli Altro Youtuber Io No Sicuramente Allora Con calma Cosa Abbiamo Qua Chi Sei Tu Che Ficata Sembra Quasi Una Sala Tombale Eh Queste Sembrano Pietre Tombali E quello Lì Mi sembra Tanto Il nemico Finale Di Dark Souls 1 Gwyn Mi sembra Che si chiamasse E qua Cosa abbiamo Niente E i collegamenti Tra l'1 E il 3 A livello Di lore Sono Molto 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 Pesanti Una Braccia Uh Una Leva È di qua O è di qua Ah no È di qua Uh Grazie No No Non Ditemi Che è Quello Che Penso Perché Se è Quello Che Penso Sembra Troppo Il ponte Che c'è Ad Anor Londo Quando Per passare Da una Parte All'altra Della Città Cioè Della Cittadella Devi girare Questo ponte Che ha Staspecie Di Di Escrescenza Diciamo Metà ponte È attaccato A questa Torre rotante Ecco È proprio Proprio così Uguale identico Quindi adesso Probabilmente Devo farla Rigirare Perché non sono Collegato a nulla Andiamo No Se vado di qua Ci resto Sì Devo Andare lì Proviamo E gira Tutto intorno La stanza Mentre si Danza Danza Ficata Sono arrivato Allora Quel pezzo Là È quello Da cui Siamo partiti Beh È fantastico Quella lì È la parte Sotto Di Iritil Quello lì È la cartedrale Di Iritil E noi Siamo qua Adesso Ma non l'ondo Mi verrebbe Da dire Infatti Eh È un falò Vediamo Vediamo Un po' Qua sto girando Con 35.000 anime Eh Già Beh Fanculo Ti Ti frego Ti frego Eh Se ti frego Novolar 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 Giù Novolar Giù Ok Droppami Vabbè Frammento di titanite Ci sta Due Neanche uno Uno Due Ok Backstamp Novolar Giù Novolar Giù Ti prego Ok Frammento grande Di titanite Ottimo Sì sì È l'entrata Di Anor Londo Ma È uguale Grande anima Di guerriero È l'eutrata Di Anor Londo Ma tipo Tutto il pezzo Dietro Non esiste Più Praticamente Quello Da dove Si arrivava Che Ficata Assurda Io direi Che andiamo Di qua Per prima Cosa Spero Di non Dover Affrontare Allstain Smaug Anche su Sto gioco Qua Perché Signore Ti prego Basta Ok Qua Non c'è Niente Ah C'è Anche Il gigante Quello Il fabbro Che ti porta Su di livello No Ma è morto No È morto Carbone Del gigante No Povero Mi stava Troppo Simpatico Questo qua Vediamo Sì sì È morto È entrato Qualcuno Ha sfondato La porta E l'ha ucciso No Povero Peccato Cavolo Sembra Tipo Che sia Passato Del tempo Da l'anno Orlondo Come E quello Lì Cos'è Ah Sono Vermi Da l'anno Orlondo Come la ricordavamo Noi Su dark Souls 1 E Come è Adesso Però è Uguale E c'è Un oscuro Boia Non pagano La bolletta Da mesi Scusate Però lo stesso arco Ammazzadraghi Che sto usando io Adesso Lo si trovava Spaccando una finestra Di queste E uscendo giù Per di lì Su dark soul 1 Quindi magari Non è che L'arco Della Ammazzadraghi L'ho trovato Qua Il collegamento C'è Chissà cosa c'è Qua sotto Sto girando Incurante Oh Qualcuno Che Ah Sono I La Ah Questa strada Qua è bloccata Ok Da qua si arrivava E che con Con la scusa Che non vedo Una mazza Freccia Della luna No Sarebbe stata Un'idea Più Intelligente Aprire il portone Quindi io Torno indietro E mi apro Il portone Entro da lì Così c'è la luce Perché così Non c'è luce E non posso Ucciderli In questa maniera Chiusa Da qualche Marchingegno Ah Che palle Basta che non ci siano Oste In smago Per me va bene Tutto Ah beh Intanto Uuuuh 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 Ma si sono evoluti Da prima Beh partiamo Da te Beh che culo Non ho fatto fuori Uno Partiamo poi Da te E quello alto Come le Brown James Ah Fortuna che questo È ciccio Ok Perfetto Prova di un successo Ni Non so cosa mi serva Merda Non posso Pararmi Ok Fuori tu Fuori tu Dai 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 Ok perfetto Ok perfetto Abbiamo ancora otto Fieschette Wow Ah da quando sono arrivato qua Merda Sti mostri Cazzo Non muoiono Tanto facilmente Eh infatti Eh infatti 76 danni Ma aspetta Questi sono deboli al fuoco Ah Dokken Sì Geniale Cazzo Quindi ci sarà pieno Di queste bestie qua Devo stare attento Che non cadano giù dal soffitto Anche Ma sapete cosa vuol dire Che non vedo niente Eh infatti Ho detto Attenti che non cadano giù dal soffitto E me ne è caduto uno Proprio di fronte Non vedo una massa Calma 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 Allora Prima faccio fuori te Ah sono in due Poi faccio fuori te No Quelli lì Non sono deboli al fuoco I preti Avrei doverlo Capito Avrei doverlo Capito Avrei Dovuto Capirlo Già Da un po' Aia Ma cosa Quanta cazzo di roba Sono coriandoli Ma dai Scopi anche tu Oh gente Mi sto in No no Ho finito la magia Porca vecca Porca vecca Come cazzo parlo A colpi Ok Usiamo l'unica pozione blu Che mi porto a dietro Pozione Fiaschetta estus Aia Ciccio pastiglio Ciccio Muori Perfetto Fatemi aprire No boss No boss No boss Ok Fatemi aprire Sto cazzo Di portone Una volta per tutte In teoria Allora posso dare fuoco Anche agli ammassi Informi Lì Si è vero Che ad Anor Londo C'era da tirare la leva Però sembra più piccola Per un qualche No 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 Gioco di merda Gioco di merda Gioco di merda Cazzo Ok Metà vita Gliel'ho tolta Però Però Se quello lì Mi fa qualcosa Che non va Eh no Anche quelli lì Ma dai Vai Vai Adok Gioco di merda Che culo Si è incastrato Vai No Sbagliatissimo Tutto Che culo Calma 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 Via 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 Dai No 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 Via 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 Rischio Troppo Rischio Troppo Devo allontanarmi Subito Calma 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 Lorenz Maledizione Subita Porca Puttana Vacca 49.000 Anime Non si vede Una Sega Lì sotto Vediamo Vediamo un po' Vado su di livello Aia Give me my souls Back Perfetto Adesso verrà fuori Ragno di merda Esatto Eeeh Io me ne vado Ah ma no Sopra Ma dai Tutti i posti Dove potevo Atterrare Non si vede Una sega Non si vede Una sega Non si vede Una sega Aspettate Allora Questi qua Se li pesto Tra l'altro Mi rallentano Ok Perfetto Questa strada qua Sgombera Adesso posso Magari stare a distanza E farlo fuori Vediamo Tanto quelli lì Non mi fanno più niente Lui C'è ancora Un po' No O si O non lo vedo C'è poco da fare Non lo vedo Non so Spero che questa parte A voi Risulti bene Perché Io non vedo niente Comunque c'è poco da fare Devo aprire Quel portone lì Ah no Ancora lì Dov'è 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 Il marchigegno Dov'è Il marchigegno Tu stai lì Fatti i cazzi tui Fammi tirare Il marchigegno Eccolo qua Ah ok Niente C'è poco da fare Lo devo fare fuori E prima ce l'avevo Anche quasi fatta Posso farcela Posso farcela Dai che posso farcela Sì Super culo Luce Ho detto luce Eh ma no Luce non proprio Oh Sì Dai vieni fuori Se hai il coraggio Ah Sì Il canale Ah Adesso ti inculo io Bevere 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 Oh le mi piace Quando il mostro è tutto bagato Vai Via 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 Mamma mia che senso che mi fa Dai Dai To Tua madre Rubino di Aldrich Oh Gesù cosa fa sta roba Gli attacchi critici Ne ripisti Perfetto Questo è ottimo Questo è ottimo Ok E Là c'è un boss Quindi io direi che 68.000 anime Signori Me le vado a spendere E poi mi faccio una gran corsa Verso il boss